Allora Presidente, ha già avuto modo di fare un giro per Arte Fiera, come sta andando? No, vengo adesso, sono venuto velocemente l'anno scorso, però mi sembra che sia sempre in forma, è una creatura per cui ho lavorato tanti anni e la vedo crescere ulteriormente, soprattutto di qualità, quindi bene.